Il biellese è nato 137 anni fa. Da allora racconta le storie della sua gente, diventando specchio degli avvenimenti piccoli e grandi della comunità. Fedela all'ispirazione cattolica, è in edicola ogni martedì e venerdì. Ha saputo cogliere le sfide del suo tempo. Oggi ha un sito dinamico interattivo e ha mantenuto con autorevolezza e indipendenza la leadership dell'informazione biellese.